Questo nostro canale riesce a generare ogni singolo mese più di 100.000 euro, ma raggiungiamo dei picchi molto molto alti anche di 6.000 euro al giorno. Bene, chi sono io? Io sono Francesco Polesel, mi occupo di business online da ormai diversi anni e in particolare da circa 3 anni mi occupo di YouTube Cash Cow Channel e Faceless. Oggi ti insegnerò come andare a generare questo tipo di revenue senza mostrare la tua faccia, senza metterci la voce, senza investire nemmeno un euro. Quindi mi raccomando, segui tutti i passaggi così andremo a vedere come potremo generare i nostri primi 5, 10, 15.000 euro al mese senza tutti questi elementi e mi raccomando ricordatamente senza investimento iniziale. Il punto numero 1 per andare a creare un canale è selezionare la propria nicchia. Io oggi vi consiglio una nicchia in particolare, la nicchia Top 10. Una nicchia intrattenitiva dove andremo a vedere i migliori 10, 20, 30, 50, dipende Top 10, Top 15, Top 25, Top eccetera eccetera. Però andremo a vedere le migliori cose in una certa categoria. Andiamo subito al dunque. Quindi adesso ci troviamo dentro YouTube. Come appena detto una nicchia interessante è la nicchia Top 10. Quindi andiamo a cercare la parola Top 10, andiamo a mettere come filtri, numero di visualizzazioni e sicuramente nell'ultimo anno. Perché ciò che è andato negli anni passati probabilmente ormai non è più in trend, non è più un topic interessante. Quindi andiamo a vedere che sicuramente sono molto interessanti questi discorsi delle Top 10, Top 20, Top 15 perché va a prendere le migliori parti di alcune tipologie di video. Quindi ad esempio qua abbiamo le migliori canzoni, i momenti più emozionanti, i Top 10 dramatic moments, vuol dire che gli incidenti più drammatici nella Formula 1, Top 10 concept car. ci sono tante tante cose diverse. Come andiamo a vedere anche su Google ce ne sono davvero tantissime perché se noi andiamo a scrivere Top 10 ad esempio su Google ci verranno fuori davvero davvero tante tipologie di nicchie. Perché? Guarda, Top 10 rugby, Top 10 qua, Top 10 là, ce ne sono davvero tantissime. Quindi noi andiamo a prendere ad esempio Top 10 hotels e andiamo a vedere che ci sono i Top 10 hotel nel mondo oppure possiamo andare a vedere Top 10 movies. Ci fa vedere i Top 10 film in questo momento. Quindi 30 most popular movies right now. Qua ti dice quali sono. Tutte 2022 ad esempio. Quindi sono liste sempre anche aggiornate e innovate. Quindi non sono roba che andava 20 anni fa o 10 anni fa. Quindi sono anche topic interessanti per i nostri utenti. Perché gli andiamo a mostrare qualcosa di recente, qualcosa su cui si devono basare una loro scelta. Ad esempio Top 10 best films, cosa serve? Perché alla sera la persona si può guardare un film e cosa gli serve capire il nostro Top 10. Puoi vedere quali sono i migliori del momento. Come se andassi a vedere i migliori 10 piatti di un ristorante. Come se andassi a vedere i migliori 10 hotel in quella zona. o mille altre cose che si possono considerare. Come le 10 auto, 10 partite di calcio, 10 eccetera eccetera. Ok, perciò torniamo alla nostra ricerca qua su YouTube. E vediamo. Top 10 ci sono davvero tante categorie. Ma ne prendiamo una casualmente. Ad esempio qua è WWE, quindi no. Ad esempio prendiamo questa, FactX. Non so cosa sia, però andiamo a vederlo. Ah, perfetto. Un canale completo di Top 10, Top 20. Quindi andiamo subito a vedere il potenziale di questi canali. Prima ne ho mostrato uno che andava a fare a quasi 100.000 euro mensili, a volte anche di più. Andiamo a vedere sul nostro Social Blade. Ok, siamo qua sul canale di FactX. Se vediamo, questo canale comunque sta facendo tra i 1.600 e i 26.000 euro al mese, che sono cifre folli ragazzi. E sta generando tra i 20.000 e i 300.000 euro annuali. Ovviamente Social Blade ci ha dei parametri di riferimento, ma noi possiamo vedere dalle views. Cosa notiamo subito dalle views? Che non è nemmeno il suo mese migliore, perché ha almeno 208%, vuol dire che ha fatto dei mesi passati molto molto alti ed interessanti. Vedete? Ha avuto dei picchi molto più alti, anche di 16 milioni. Quindi la revenue generata potenzialmente è almeno il doppio, se non il triplo mensile. Cosa notiamo a colpo d'occhio? Che non è uno dei best canali che ci siano in questa nicchia, ma è uno di quelli che vanno benino, e quindi fa delle cifre comunque molto molto interessanti. Quindi la cosa che abbiamo notato ovviamente è che questa qua è solamente la revenue da AdSense. Ovviamente se noi abbiamo un top 10 possiamo andare a mettere affiliazione e tante altre tipologie di promozioni, come product placement o tantissime altre tipologie di affiliazioni che ci sono adesso. Quindi possiamo capire benissimo che questa è una parte del loro guadagno, ma sarà probabilmente molto molto più alta, se non almeno il doppio o il triplo. Una cosa molto interessante è che possiamo vedere che loro fanno diverse tipologie di contenuto, ad esempio anche quel martello o altre cose, che possono addirittura venderti prodotti fisici con il loro canale, quindi andare a monetizzare molto molto di più. Se noi vediamo subito il loro canale, possiamo subito vedere che sono delle stock videos, o comunque video presi altrui, senza averli nemmeno registrati loro stessi. Come potete vedere, sono video sempre altrui. Quindi, cosa vi posso consigliare in questo caso? Vi posso consigliare come andare a realizzare questo video senza metterci la faccia, senza metterci denaro e senza metterci troppo impegno da parte vostra. Un'altra cosa che notiamo è che il canale è rencato in India, ma al 99% non sta ottenendo views indiane, perché se andiamo a vedere i commenti, ce ne sono davvero davvero pochissimi. Però tutto il resto sono anglofoni, quindi se ricevi commenti in anglofono, al 99% non sono dall'India, perché commenterebbero nella loro lingua. Quindi, ora andiamo a vedere come realizzare contenuti in questa nicchia, senza investire denaro. Possiamo vedere subito, come vi ho fatto vedere prima, che cercando su Google possiamo avere sempre novità e nuove idee, spunti di quello che viene detto nelle top 10. Quindi, top 10 movies, top 10, aspetto e guardo il resto, film horror, rugby, top 10 hotels, top 10 restaurant, near to me, top 10 restaurant, un luogo, top 10 di un'altra cosa, top 10 crashes, top 10 e altre cose. Quindi, sicuramente noi possiamo andare a prendere delle idee da qua da Google e andiamo a farle realizzare o il nostro team o le realizziamo noi stessi. Ad esempio, adesso sto guardando per top 10 hotels. E cosa ci fa vedere lui? Quelli attorno a noi, ovviamente, e tanti altri hotel che ci sono in giro per il mondo. Però noi andiamo a cercare degli articoli, tipo questo qua di TripAdvisor. Da qua noi prendiamo molte, molte idee per andare a realizzare i nostri contenuti in questa nicchia. Adesso ti mostro come andare a realizzare contenuti molto simili a quelle del canale visto in precedenza, ma con molto meno impegno. Quindi, noi andiamo a prendere un contenuto che parla dei top 10 best hotels in the world e noi andiamo a prendere il topic e il testo che sta usando. Quindi, andiamo a vedere l'esempio che parla qua degli hotel, come parla, eccetera, eccetera. Noi prendiamo, ci selezioniamo tutto. Cosa facciamo? Andiamo su un sito come Paraphrasing Tools, che ce ne sono davvero tanti. Questo qua è uno basico, ma ce ne sono davvero tanti. Basta scrivere Paraphrasing Tool che ti vengono fuori. Noi la facciamo, gli facciamo fare la parafrasi. Perciò, noi avremo copiato il nostro testo di qua, lo copiamo e lo andiamo a incollare in un tool come l'Ovo, che ti va a prendere direttamente dei voiceover creati con intelligenza artificiale. Quindi, non devi nemmeno andare a assumere una persona che va a parlare al posto tuo o a leggere comunque il tuo script per metterci la voce. Lo farà tutta un'intelligenza artificiale che lo fa a un livello molto molto alto. Ovviamente, adesso vi mostro la versione gratuita. Pagando si può ottenere molto di più. Però comunque la versione gratuita va già bene. Ad esempio, noi qua abbiamo incollato il nostro testo. Cosa faremo adesso? Lo faremo parlare a The Game, Ads, dipende cosa vogliamo mettere. Ad esempio, e-learning, la ragazza che parla. Sentite qua il voiceover, quanto è realistico e quanto viene fatto bene. The Inquiry, what is your favourite hotel in the world? Comes up most frequently. Since I prefer to rank hotels in various categories according to the experiences they provide soon. Se vedete, noi possiamo cambiare anche tra le voci. Ad esempio, c'è Fanny, Cartoon, Documentary. Che questo qua è quello che magari fa più il caso nostro per quel canale. Quindi, adesso abbiamo visto come andare a generare un voiceover completamente con l'intelligenza artificiale e possiamo farlo anche molto più dettagliato a scegliere accento british, americano, canadeso oppure mille altri accenti semplicemente andando a fare un piccolo upgrade e iscrivendoci. Seconda opzione, invece, è se non vogliamo utilizzare l'intelligenza artificiale e magari ci conviene farlo fare a delle persone, andiamo a cercare, ad esempio, su Fiverr, cheap voiceover oppure andiamo a cercare semplicemente voiceover e filtriamo per prezzo. Come vedete, ci sono prezzi per tutte le tasche e ovviamente ce ne sono anche tanto, tanto bassi perché questo qua, ad esempio, parla tedesco, eccetera, eccetera adesso noi andiamo a prenderne uno classico guardate qua, per 800 parole lui ci chiederà 4,95$ che sono davvero davvero pochi ovviamente dobbiamo valutare la qualità quindi possiamo fare dei test, analizzare, capire qual è il migliore e qual è che fa più il caso nostro però guardate quanti ce ne sono a così poco prezzo ne avete migliaia da cercare perciò ce ne è davvero davvero tanti da poter provare e da poter testare poi siamo arrivati a questo momento che abbiamo già fatto lo script e il voiceover cosa ci servirà a noi? andare a trovare delle immagini in stock e dei video per andarle a mettere e montare nel nostro video quindi andiamo a prendere ad esempio uso Pexels che è gratuito, completamente free e qua trovate davvero davvero tutte le immagini e i video che vi possano servire ci troviamo qui su Pexels qui potete trovare la maggior parte delle fotografie e anche i video come vedete possiamo vedere tra video, foto e tante altre cose che ci sono sul sito noi ovviamente qua cerchiamo il nostro topic e andiamo a prendere delle royalty free stock videos come vi mostro al volo se io vado a cercare top 10 ad esempio proprio direttamente senza andare a cercare manco il topic potete vedere che ci sono diverse tipologie di video molto interessanti perché se editate bene si può fare un bel bel lavoro guardate qua ad esempio che bella questa col pc ma ce ne sono davvero davvero tante altre se noi stiamo facendo una top 10 compilation di qualche contenuto sicuramente Pexels ci darà una gran mano guardate questa un ponte ripreso col drone è sempre molto interessante per far vedere dei momenti belli quindi una volta che abbiamo ottenuto il nostro script l'abbiamo fatto leggere o l'intelligenza artificiale oppure abbiamo assunto un voice over abbiamo trovato le nostre immagini stock i nostri video stock da utilizzare il passaggio successivo sarà andare a montare questo video quindi se noi abbiamo delle competenze in montaggio possiamo andare a farlo noi stessi come su Premiere Pro Final Cut Filmora e tool così oppure ci sono dei tool completamente gratuiti online che non richiedono grandi competenze come ad esempio vid.io che ti va a creare un video semplicemente in pochi passaggi quindi noi andiamo a fare create first video e andiamo a creare un video in semplici passaggi io consiglio sempre di andarlo a creare inizialmente almeno per comprendere come si crea un video e comprendere come si fanno al meglio con delle app classiche come Final Cut eccetera eccetera ce ne sono davvero tante di gratuita ad esempio se avete un macbook c'è anche i movie all'interno e vi basterà con tutti questi tips che vi ho appena dato noi potremo andare a creare un canale che vi farà da un giorno all'altro queste tipologie di risultati monetari e continuerà a crescere nel tempo ovviamente ce ne sono davvero tante 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 da fare e ci sono tante nicchie da esplorare quindi ragazzi il mio consiglio è non fermatevi mai e continuate sempre ad apprendere ad esempio questo qua è un risultato che potete tenere molto semplicemente dal primo mese partendo da zero come vi faccio vedere qua eravamo completamente a zero di monetizzazione fino a quando da un giorno all'altro abbiamo portato a fare quasi 500 euro al giorno una cosa ottima è che questo qua è solamente il traffico che viene pagato da AdSense quindi ciò che viene pubblicizzato all'interno dei nostri video ma senza la nostra volontà ma è tutto gestito da AdSense e noi ci paga per il traffico che andiamo a produrre una cosa eccezionale è andare a cercare dei partner con cui andare a guadagnare ancora di più nei nostri video Partner Stack è un programma che ti consente di accedere per andare a ottenere delle offerte personalizzate da inserire nei tuoi video quindi loro andranno a prendere delle collaborazioni con brand oppure aziende e andranno a posizionare della pubblicità all'interno dei vostri video nei momenti in cui volete voi loro vi riconosceranno una percentuale in base agli acquisti che portate ad esempio ad esempio noi possiamo vedere che loro sono partner di Stripe Salesforce HubSpot Slack Recurli eccetera eccetera e ce ne sono davvero tanti altri se noi effettuiamo l'accesso all'interno vedremo direttamente proprio le offerte che ci sono è un'ottima piattaforma che mette in contatto i canali con i brand quindi noi possiamo ottenere delle pubblicità programmate con i brand all'interno dei nostri video che può essere product placement affidazione eccetera eccetera ce ne sono davvero tante quindi la nostra monetizzazione sarà molto più alta rispetto a quella che vedete semplicemente da AdSense e ci sono diverse maniere come ad esempio le SaaS brand aziende altri influencer che vi pagano altri canali che vi pagano quindi potete monetizzare in differenti maniere e ottenere dei risultati davvero davvero enormi ora vi mostro questo nostro canale che riesce a generare ogni singolo mese più di 100.000 euro quindi andiamo subito a vedere questo analytics dove possiamo subito notare che ci sono alcuni giorni in cui generiamo tra i 2.000 euro ma raggiungiamo dei picchi molto molto alti come vi faccio vedere adesso anche di 6.000 euro al giorno quasi se sei interessato a novità come queste oppure dei tutorial ti consiglio di seguire il mio canale youtube qui sotto quindi iscriviti lascia un like e poi fammi a seguire anche sugli altri social come instagram e tiktok sicuramente su instagram ti farò vedere molte cose interessanti quindi ti consiglio di seguire il mio profilo francesco.polesel così troverai davvero davvero tanti contenuti per andare a sfamare il tuo interesse sul mondo di youtube quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao